C'è a Napoli un signore che lavora tutta la vita per accumularsi con cosina di soldi per comprarsi una Ferrari che era il suo figlio e raggiunge il sogno si compra sta Ferrari e inizia a correre per strada e all'improvviso impatta contro un muro di cemento e muore ma in paradiso è stato a San Pietro dice San Pietro ti devo chiedere una cortesia per piacere sta Ferrari ma me la portai in paradiso per piacere ho lavorato tutta la vita per comprarmela ma San Pietro dice io te lo concedo però a una condizione non devi correre per il paradiso altrimenti investi i santi e roba l'altra si porta la Ferrari in paradiso e inizia a camminare lui non contento di andare a correre e inizia a correre mentre corre viene fermato a San Pietro e dice altrimenti dammi le chiavi e San Pietro stava andando via no dammi le chiavi basta comunque alla fine si mette la corte e gli dà l'ultima chance gli dà le chiavi e lui comunque cammina a piano e rotto l'aria all'improvviso specia una Lamborghini taggata a nà e lui inizia a correre dietro e tutto comunque corre dietro all'improvviso con il mare San Pietro dice altrimenti dammi le chiavi dice San Pietro perché? ecco perché mi devi dare le chiavi San Pietro è passata una Lamborghini taggata a Napoli quello pareva come il pazzo caro mio quello non è il taggata a Napoli quello è il taggata a Nazareth il tuo figlio principale è il tuo figlio guardatelo spegniti il microfono spegniti il microfono il colonnello riguarda questo colonnello aveva un problema anatomico gli mancava un orecchio arrivano questi ragazzi guardano dal colonnello il primo arriva e fa il colonnello giovanotto ma secondo te io ho qualcosa che non basta il giovane lo guarda rispetta e dice colonnello rimandano un orecchio ma naturalmente esci fuori esci fuori non è vero esci fuori esci fuori e va lontana arriva il secondo il secondo giovane e lo guarda il colonnello e dice giovanotto ma secondo te io ho qualcosa che non basta ma la colonnella gli mancava un orecchio ma naturalmente insomma me lo caccia fuori questi due ragazzi che stavano fuori poi parlano a voltezzo e gli dicono guarda se ti chiede c'è qualcosa che non va tu devi dire non gli dite che gli manca un orecchio perché insomma si arrabbia ti caccia fuori allora entra entra il terzo il terzo ragazzo e fa sta il colonnello c'è qualcosa che non va entra e il ragazzo lo guarda lo guarda un po' non sa cosa dire alla fine fa colonnello portate le vendine bravo e come fa? è perché se ce ne vanno lì ti ho inventato degli occhiali bravo 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 alla presenza del generale il generale consegna loro una pistola scarica loro insaputa e fa vicino a uno al primo ma in quella stanza dietro a quella stanza c'è stata tua moglie devi uscire e va adesso qua carica la pistola entra aspetta cinque minuti esce fa vicino al generale il generale guardate e mia moglie che avevano passato la vita insieme non me la sono sentita fa vicino al generale bravo hai tirato la prova hai fatto la scelta giusta entra il secondo chi dà la pistola là dentro c'è il tuo fratello va là e lo figura poi tutti dicono ah sì mio fratello ma hai fatto lo specchio ma che lo faccio entra aspetta dieci minuti riesce guardate con tutti i specchi che mi hai fatto comunque il mio fratello sangue dello stesso sangue non me la sono sentita bravo hai fatto la cosa giusta se ne va arriva il terzo il generale mi dà la pistola e fa dentro a quella sala c'è tua suocera vai là questa è la pistola uccida basta mia suocera tu perché mi ha fatto passare con un ucchiano fammi entra là cinque minuti dieci minuti mezz'ora un'ora un'ora e mezza che si riesce due ore tre ore passano cinque sei ore riesce tutta sudata ma che è successo con il generale tutto il suo tempo generale ma a sapere me la da la pistola scarica l'ha giudata per me a assaggiare bravo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti